Oggi è una giornata importante per la Calabria, per i calabresi. La nuova giunta si è insediata non a caso nella nuova sede della Regione. La nuova sede per la quale sono state investite risorse importanti. Sarà la sede nella quale saranno tutti gli uffici della Regione. Si chiuderà una fase lunga, di oltre un quarantennio, che ha visto la Regione disseminata in diversi luoghi della città di Catanzaro. Gli uffici saranno in un'unica struttura nel palazzetto della Regione, la cittadella regionale qui a Germaneto di Catanzaro. È un fatto importante perché non solo apre una stagione nuova, quella di offrire alla Calabria, agli enti locali, amministratori locali, alle imprese, ai cittadini calabresi, un punto di riferimento, evitando nel rapporto con la Regione difficoltà enormi.